Buongiorno amiche mie, oggi facciamo una crostata, una pasta frolla, adesso facciamo una pasta frolla e voglio fare una torta con la frutta sopra, ok? E allora qui ho messo 250 grammi di farino zero, poi ci vado a mettere un uovo la voglio fare con le fragole, poi ci vado a mettere 70 grammi di zucchero 50 grammi di olio di semi un cucchiaino di lievito ecco, un cucchiaino di lievito, quindi vado a impastare e ho messo anche la farina a parte, così se mi serve vado ad aggiungere l'altra ancora eccola qua vado a mettere sopra ok? e andiamo a impastare queste sono buone queste torte, con la frutta, che adesso arriva la stagione delle fragole, i kiwi mamma che buono, a me mi piacciono molto queste queste crostate con la frutta vado pazza con delle torte di mele mi piacciono molto le crostate buone, buone sarebbe un po' compatto mi piacciono molto un po' ecco fatto ecco fatto eh vedete come deve uscire? è bella che non si appiccica più quindi vado a prendere la carta forno e la vado a stendere qui sopra andiamo a stendere qua sopra un po' di farina e andiamo a stendere qui e e e e e e e e e vedete come è facile fare questo impasto ecco qua stendiamo perché devo fare una cosa la ritagliamo quindi adesso io questa guardate prendiamo la teglia e la vado a girare qui sopra così vedete la dobbiamo lasciare così la dobbiamo infornare così ok a 180 gradi per 15-20 minuti vedete questa deve uscire così la vado a infornare va bene poi riprendiamo di nuovo la dobbiamo la dobbiamo infornare